Ciao a tutti e ben ritrovati per lo speciale di Halloween! La seconda storia che vi offro è una vecchia traduzione che avevo pubblicato nei mesi scorsi su DeviantArt e Wattpad. Tuttavia oggi non narrerò soltanto questa storia, ma anche le sue origini, che ho tradotto di recente quando stalkeravo il profilo dell'autore. Ringrazio Shaddy che è l'eprecon per aver interpretato le voci dei personaggi maschili e per la narrazione. Noi ci risentiremo come sempre a fine video. E adesso mettetevi comodi, spegnete le luci e godetevi questa creepypasta! Era passato un po' di tempo da quando mi ero trasferito in una nuova città, una di quelle cose che ogni tanto uno fa per lavoro. Ad ogni modo, era piuttosto inquietante e strano qui, ma non era la zona, erano i suoi residenti. Ogni mattina, quando andavo a lavorare, incrociavo gli sguardi dei miei vicini, quegli sguardi che erano pieni di disprezzo e insicurezza. Non gli avevo dato molto peso e avevo cercato di ignorarli. Una sera, mentre stavo tornando a casa dal lavoro, ho trovato un biglietto appeso alla mia porta. Lentamente mi sono avvicinato al lucio per staccarlo. L'ho aperto e ho letto SCAT scritto sulla nota. Pensai subito allo scherzo idiota di qualcuno. Così l'ho appallotolato e l'ho gettato via. Lui è ancora qui, disse una voce sinistra alle mie spalle. Il mio respiro si era fermato per un secondo e mi sono guardato intorno. Ho visto una vecchia signora in piedi accanto alla mia macchina. Chi sarebbe lui? Ho chiesto esitante, squadrando sospettoso la signora. Quello che uccise la famiglia che viveva qui prima, rispose, scomparendo lentamente nel buio. «Aspetta!» mi affrettai a dire, ma prima che io me ne potessi accorgere, la donna era già scomparsa nel nulla. Ho scosso la testa e sono entrato in casa. Quella notte mi sono girato e rigirato più volte nel letto per svegliarmi infine intorno alle 4.50, ricoperto di sodore freddo. Avevo sognato quella signora e quello che mi aveva detto prima. Lui? Chi era lui? Volevo sapere chi era e cos'era successo a quella famiglia. Così ho deciso di investigare su quello che poteva essere successo alla famiglia che viveva qui prima di me. Mi sono alzato e ho portato il mio laptop in cucina. Dopo averlo acceso, mi sono messo a cercare su internet delle informazioni. Ho usato i motori di ricerca, ho chiesto informazioni su alcuni forum e ho visitato il sito web della mia città. «Oh, andiamo! Non ho trovato niente!» Ho sospirato dopo ore di ricerche. Ci voleva sempre un po' prima di ricevere qualche risposta sui forum. Così ho spento il portatile e ho aspettato un paio di giorni. Dopo qualche giorno, mentre stavo controllando la mia casella di posta elettronica, ho notato di aver ricevuto una mail. Sono rimasto sorpreso e ho iniziato a leggere il messaggio. «Ciao, ho visto che stai cercando risposte su quello che è successo in quella casa dove stai vivendo ora. Sfortunatamente non posso raccontarti i dettagli, ma posso solo dirti chi ne fu responsabile abbandonando la casa. La maggior parte di equipaggiamento si trova ancora immagazzinato nell'attico, ma eventualmente potresti dare un'occhiata e trovare qualcosa di utile o addirittura trovare la risposta che stavi cercando». Un po' insicuro, ho chiuso il portatile e mi sono alzato dalla sedia. Avevo un sacco di tempo prima di dover tornare al lavoro. Così sono salito nell'attico, ho portato con me una torcia elettrica, ho aperto la porta e ho cominciato a salire le scale. C'erano un sacco di scatoloni e di vecchie cose private che appartenevano a una famiglia che aveva abitato nella casa, ma non avevo trovato alcuna prova fino a quel momento. Con delusione me ne sono tornato giù per le scale, finché il mio sguardo non si è posato su un vecchio computer e me lo sono portato di sotto. L'ho messo nel soggiorno e ho spolverato quel velo di polvere che si era accumulato nel tempo. Dopo averlo collegato e avviato, ho notato subito che qualcosa non andava. Il disco rigido era vuoto e non vi era nulla al di fuori di un file, rinominato sound.mp3. Scettico, ho cliccato su di esso e ho avviato il lettore multimediale. Continuava a sembrarmi strano che non vi fosse rimasto altro se non quel file. Quando il lettore aveva avviato la traccia, non si sentiva nulla. Ho controllato le casse, ma erano accese e sembrava che tutto fosse nella norma. Dopo 30 secondi, ho sentito un debole ronzio. Sembrava lo stesso che faceva la radio quando non prendeva il segnale. Il suono aveva iniziato ad incrementare e altri suoni distorti avevano iniziato lentamente a farsi sentire. Il rumore aveva iniziato ad diventare sempre più forte, quasi al punto da fermare le orecchie. Ho provato a chiudere il lettore multimediale, ma non rispondeva ai comandi. Si apri una casella di testo. Non ci sono vie di scampo. I miei occhi si spalancarono e ho continuato a tentare di chiudere il lettore multimediale. Il rumore era sempre distorto. Mi sono afferrato la testa tra le mani e mi sono alzato in piedi. Il suono si interruppe all'improvviso quando il computer cresciò. Mi sono lasciato cadere sulla sedia fissando lo schermo nero. Ho anche sentito dei rumori, anche se in casa era tutto tranquillo. Quel misto di rumori, toni distorti e onde ad alta frequenza mi avevano portato un insopportabile mal di testa che aveva perdurato tutto il giorno. Al lavoro ho raccontato a una mia collega quello che era successo, ma lei rise dicendo che dovevo aver fatto un brutto sogno e che sarei dovuto tornare a casa a riposare. Quando tornai a casa il mal di testa era diventato ancora più intenso. Mi sono trascinato fino al bagno e ho aperto l'armadietto dei medicinali. Ho preso una pastiglia da un flacone e ho richiuso. Quando ho spostato lo sguardo sullo specchio, ho visto qualcosa fra le mie spalle. Mi voltai subito, ma non vedi nessuno. Mi strofinai gli occhi e sosperei di sollievo. Sebbene stessi tremando e avesse un fastidioso nodo alla gola, «Mondio, sto iniziando ad avere le allucinazioni. Dovrei andare a letto!» Pensai, mentre mi stavo dirigendo in salotto. Ho sentito il suono del file riccheggiare di nuovo nella mia testa, quindi mi voltai subito verso il computer. Che trovai spento. Scossi con la testa e lentamente, mentre scorrevo lo sguardo per la stanza, mi accorsi della presenza di qualcuno che se ne stava in piedi al centro del corridoio, fissandomi. Non riuscivo a distinguere i lineamenti del suo viso, perché la sala era poco illuminata e perché lui indossava una ferpa col cappuccio. Mi sono affrettato verso la cucina senza perdere di vista l'uomo. Ho afferrato il coltello più grande che potessi trovare. Mentre mi stavo voltando indietro, il ragazzo si era spostato e ora si trovava esattamente di fronte a me. La sua vista mi congelò per qualche frazione di secondo. Non aveva occhi. Al posto di quelli aveva due cerchi neri che parevano le manopole del volume di una vecchia radio. Alcune vene penzolavano fuori dai fori degli occhi, dove erano incastrate le manopole. Ho impugnato il coltello e l'ho puntato su di lui. «Tu chi sei? Battene!» Gli ho urlato con tono incerto e ho iniziato a minacciarlo con il coltello. Lui non rispose. Semplicemente alzò una mano e iniziò a girare una delle due manopole che aveva al posto degli occhi. Sul momento il rumore si fece più intenso e distorto nella mia mente e i miei occhi si spalancarono, lasciando cadere il coltello a terra. «Basta! Basta!» Urlai, mentre mi piegavo in avanti. Non smise e continuò a girare la manopola. Il rumore si faceva sempre più intenso. Lo guardai implorante e notai che mi stava parlando, ma non riuscivo a sentire una parola di quello che mi stava dicendo. Il rumore nella mia testa sovrastava la sua voce. Era troppo forte. Il mio corpo si tese come un accordo di violino, diventando completamente rigido e paralizzato in quello stato. Sembravo appena sprofondato in uno stadio di trance. Non avevo più il controllo. Lui abbassò la mano e si chinò su di me. Mi porse di nuovo il coltello che mi era caduto in terra e mi aiutò a tirarmi su. Ora mi trovavo lì fermo in piedi, davanti a lui, con il coltello serrato in mano e con il libero arbitrio. Ancora una volta avevo iniziato a girare la manopola e lentamente ho iniziato a muovere la mano. Anche se non ero io a comandare il movimento, notai che si stava rivoltando contro di me. L'allagnamento ho cercato di lottare per contrastarla, ma non ci riuscivo. Ho sentito la prima coltellata al petto e la lama ha iniziato a lacerarmi verso il basso dello stomaco in giù. Il sangue scorreva copiegamente dalla ferita e il dolore era incinante. Ho stretto l'impugnatura e ho diretto la lama verso la mia gola. Ho cominciato a piangere mentre lentamente quella lama affilata si piantava dentro la mia gola. Ho lasciato cadere il coltello e poi ho iniziato a lottare disperatamente per respirare, fino a quando non sono caduto a terra annaspando il mio ultimo respiro. L'ultima cosa che ho visto era l'uomo con le manopole a posto degli occhi, sorridere verso di me. Noah era seduto dentro la sua stanza, che sembrava una gabbia. Odiava se stesso, quasi quanto odiava la sua vita. Suo padre era un soldato che combatteva nella guerra del nuovo secolo e questo era il motivo per cui si trovava in quella gabbia, ora. Lui e sua madre erano stati rapiti tanto tempo fa. Era passato così tanto tempo che Noah non riusciva nemmeno a ricordare come e quando fosse accaduto. Aveva avuto una vita abbastanza felice prima di tutto questo. Noah aveva un disturbo di identità dell'integrità corporea da quando era un ragazzino e per questo motivo aveva cercato in più occasioni di ferirsi. Quando aveva otto anni si era sportato entrambi gli occhi con una forchetta. Non gli importava se per questo ora era diventato cieco. Una parte di lui, in realtà, era felice di esserlo diventato. Almeno, in questo modo, non era costretto ad assistere alle torture che subiva sua madre. D'altra parte, lui lo torturavano con la musica, con la musica della radio, ad essere esatti. Noah odiava quella musica, a tal punto che solo ascoltandola gli sanguinavano le orecchie. E questo era spiegato dal fatto che la musica che gli facevano ascoltare era al massimo del volume, al limite della soglia del dolore. Noah aveva all'incirca 14 anni. Aveva i capelli castani e disordinati. Era piuttosto alto e magro perché i suoi rapitori erano parsimoniosi con le razioni di cibo. L'unico cibo che gli veniva dato per nutrirsi era dell'acqua, che gli veniva versata direttamente in mano e tre fette di pane. Era stato costretto dai suoi rapitori a indossare degli abiti arancioni e una benda, che lui aveva trovato inutile indossare dal momento che era cieco. Per tutto il tempo doveva portare anche un bavaglio quando non mangiava e le sue mani erano legate dietro la schiena. Delle grosse catene immobilizzavano le sue caviglie, tenendo i piedi legati insieme. Attesi nella sua gabbia, fin quando l'approssimarsi di un rumore di passi iniziò a torturarlo nella mente. Noah aveva iniziato a tremare, mentre aspettava l'imminente arrivo di ulteriori torture e punizioni. L'uomo prese Noah e lo fece accomodare su un'altra sedia, posizionandogli sulla testa un paio di cuffie con la solita stazione radio, C'era una vecchia radio a manopole che veniva collegata con un jack alle sue cuffie. L'uomo rise, guardando il ragazzo terrorizzato aver iniziato a tremare. Noah cade a terra scosso dalla paura. Si comportava nello stesso modo di chi aveva appena visto un fantasma. Il suo aguzzino gli tolse le cuffie. Noah non riusciva più a reggere quella tortura. Si sentiva troppo terrorizzato, ma in fondo alla paura c'è anche rancore, quella dannata tortura. Noah ora giaceva sul pavimento. Se avesse avuto ancora gli occhi, probabilmente in quel momento avrebbe pianto, ma alla fine si addormentò, continuamente tormentato dagli spasmi. Quando Noah si risvegliò sentì urlare. Qualcuno gli aveva appena gridato qualcosa con rabbia. Era stato il suo aguzzino. Alzati, è il momento di mangiare. Noah sbadigliò, notando che gli era stato appena rimosso il bavaglio dalla bocca per permettergli di mangiare. In un secondo istante si rese conto che anche le sue mani e i piedi erano liberi. Noah sorrise leggermente, mentre stava pianificando nella sua mente qualcosa. Doveva solo aspettare il momento giusto. La porta si aprì e qualcuno entrò nella stanza per gettare sui piedi il cibo. Noah rapidamente scattò in piedi e si scagliò contro il rapitore, che impreparato non riuscì a intercettarlo in tempo. Era riuscito a centrarlo in pieno. Era stata una mossa sorprendentemente accurata per un ragazzo cieco. L'uomo cadde riverso a terra, privo di sensi. Una scarica selvaggia di adrenalina aveva riscosso il corpo di Noah. Noah sentiva di essere capace di fare qualsiasi cosa. Noah corse fuori dalla gabbia, chiudendosi la porta alle spalle. Si strappò la benda che era costretto a indossare, gettandola a terra. La prima cosa che notò dopo essersela tolta fu che, in un certo senso, era come se lui fosse in grado di percepire il mondo attorno a lui, in un modo che gli stava permettendo di vedere. Percepiva i contorni illuminati delle cose e delle persone che si trovavano nelle sue immediate circostanze. Poteva individuare l'ubicazione degli oggetti basandosi su una specie di sesto senso, senza che fosse necessario usare il tatto. Era come se fossero diventate radianti le cose attorno a lui, e aveva la netta sensazione che ciò fosse una conseguenza delle torture che aveva subito. Abbassò la testa e notò la sagoma di un coltello a terra. Stirò le labbra in un sorriso e lo raccolse. Noah riprese a camminare passando davanti a diverse celle. Da lontano scorse la figura di una guardia girata di spalle. Noah si avventò rapidamente su di lui e gli puntò il coltello alla gola. «Se mi dai la risposta giusta, forse potrei risparmiarti», mormorò Noah con voce tesa. «Dove si trova mia madre?» La guardia guardò Noah con un pizzico di paura negli occhi. «L'abbiamo uccisa qualche tempo fa», rispose. Noah gli squarciò la gola con estrema facilità. «Risposta sbagliata» e lasciò cadere a terra il corpo senza vita della guardia. Cominciò ad allontanarsi quando sentì sopraggiungere dal corridoio un rumore che gli suggerì la presenza di una truppa in movimento. Noah entrò in una specie di magazzino e si chiuse la porta alle spalle. Analizzò la stanza e notò una radio. Si avvicinò per toccarla. La riconobbe. Era lei. La stessa radio che avevano usato su di lui per torturarlo. La rabbia esplose dentro Noah. L'odio e la rabbia avevano raggiunto il limite. Sollevò la radio e la sbagliò con tutte le forze a terra. Udì l'urto della radio dopo la collisione e il rumore di pezzi che andavano in frantumi che si spargevano per la stanza. Le due manopole per regolare il volume erano saltate fuori dal punto di incastro e i circuiti scoperti stavano mandando delle piccole scintille. Noah le raccolse e tagliò i circuiti. Poi le incastrò nelle sue cavità oculari facendole combaciare perfettamente. Noah non sapeva spiegarsi perché avesse fatto una cosa del genere ma aveva sentito il bisogno di farlo. Poco dopo lasciò il deposito per ritrovarsi altre cinque guardie e correre nella sua direzione. Prendetelo! Catturate quel maledetto ragazzo con la faccia da radio! Gridarono. Radio Face? Ripetè Noah a se stesso confuso. Poi sorrise leggermente a pensare a quel bizzarro appellativo. Mi piace. Noah corse verso una delle guardie e gli saltò addosso pugnalandola al petto. Il sangue aveva imbrattato i suoi vestiti. Rubò la pistola dalla fondina e sparò alle rimanenti guardie uccidendo ognuna di loro con un colpo solo. Dopodiché corse finché non raggiunse la porta d'ingresso. Prima di andarsene diede fuoco all'edificio sentendo le lontane grida delle guardie che erano rimaste intrappolate nell'incendio. Poi Noah continuò a correre fin quando non si sentì più le gambe. Ma anche allora ha continuato ininterrottamente a camminare. Noah era libero. Era finalmente libero. Ed era una persona completamente nuova. Impressione a caldo. Ok. Ora alzi la mano che ascoltando la seconda parte della storia non ha pensato anche solo una volta a Daredevil. Purtroppo è stato poco chiaro l'autore su quello che voleva intendere col fatto che Noah riuscisse a vedere lo stesso anche se era senza occhi diventando una specie di radar vivente. Onestamente avrei trovato più credibile se riuscisse a percepire gli oggetti intorno a sé tramite l'udito e il tatto come qualsiasi altro non vedente. Considerando le terribili torture da lui subite avrebbe dovuto perdere l'udito a forza di sfiorare in più occasioni la soglia massima del dolore. Ma questo è un dettaglio diciamo poco importante. Inoltre un ragazzo di 14 anni senza alcun addestramento militare è difficile se non impossibile nella realtà che riesco a stendere con un pugno allo stomaco una guardia addestrata. Mettiamola così se l'autore avesse spiegato che suo padre essendo un soldato combattente gli avesse insegnato qualche mossa militare direi che sarebbe stato più plausibile. Forse il fatto che avesse accennato al padre all'inizio della storia serviva a giustificare la sua forza fisica oltre che il motivo per cui si trovava sotto tortura con la madre. È stata una scelta interessante per una creepypasta ma sicuramente si poteva sviluppare meglio. Molte cose sono state lasciate indietro e date per scontate non un accenno al suo rapporto con i genitori la sua strana malattia e sul perché porti i simboli dell'operatore addosso su quale sia il suo ruolo come proxy e sul perché continui a torturare e uccidere persone innocenti piuttosto avrebbe potuto continuare a perseguitare i suoi aguzzini venire a capo dell'organizzazione cui facevano parte e che lo hanno rapito scoprire il loro movente cercare suo padre e aiutarlo a vincere la guerra del secolo ma no al diavolo tutto è più figo diventare un proxy e scorazzare nei boschi e uccidere gente. Tra l'altro le sue origini si ricollegano in modo fiacco con l'inizio della seconda storia dove si parla appunto di una famiglia scomparsa nel complesso non posso dire di aver apprezzato questa storia sulle sue origini più della sua creepypasta che perlomeno lasciava un alone di mistero attorno al personaggio però mi sono piaciute senz'altro alcune cose prima di tutto un passato come prigioniero di guerra ripeto se l'autore avesse sfruttato meglio questa idea credo che sarebbe venuta fuori una storia che in tanti avrebbero apprezzato di più in secondo luogo l'uso del rumore come strumento per torturare le sue vittime non trovo sensato il fatto che possa anche controllarle mentalmente ma l'idea che possa stordirle e torturarle col rumore è una bella trovata e come ultima cosa la sua strana malattia da cui si sarebbe potuta sviluppare anche un'intrigante personalità buona halloween e ci sentiamo nel prossimo video un'intrigo un'intrigo Grazie a tutti